Tutti quegli algoritmi di intelligenza artificiale che nascono dalla matematica, dagli algoritmi statistici, ma che poi evolvono in una serie di applicazioni pratiche e concrete che sempre di più stanno impattando nella nostra vita. Non si tratta più solo di studiare queste tematiche, ma di imparare anche ad utilizzarle e ad utilizzarle sempre meglio anche all'interno della didattica. Sono alcuni punti particolarmente interessanti sul carattere interdisciplinare dell'intelligenza artificiale, sull'etica e sulla collaborazione necessaria per sviluppare delle soluzioni utili ed etiche. È possibile utilizzare questi algoritmi in contesti scolastici o in alcuni percorsi didattici in maniera molto semplice. E la cosa bella è che l'istruzione in qualche modo si è evoluta per superarli e per migliorare. Questo è un oceano di possibilità e siamo solamente all'inizio. Grazie. Grazie.